Credereste uno scienziato che per vivere d'estate insegna surf e d'inverno snowboard si dedica alla fisica nel tempo libero e fino a qualche tempo fa era praticamente uno sconosciuto? Mai fidarsi delle apparenze. Anthony Garrett Leasy è un fisico americano di origini italiane che ha lanciato una nuova teoria che spiegherebbe tutto il creato, dagli atomi alle galassie alla geometria. Una teoria molto elegante che affascina gli scienziati di tutto il mondo. La teoria del tutto è il sacro graal della fisica perché ad oggi ci sono due distinte teorie per spiegare il cosmo, la meccanica quantistica che spiega il mondo atomico e la relatività che spiega la struttura dell'universo su larga scala. Manca però un'unica teoria che spieghi tutto il creato. Per visualizzare questo cristallo molto astratto e quindi per studiare le particelle elementari e le loro interazioni possiamo immaginare di proiettare la figura geometrica su un piano. In questo modo si crea una figura costituita da tanti puntini colorati, posti in relazione geometrica l'uno con l'altro. I puntini colorati rappresentano le diverse particelle elementari. I triangoli gialli, per esempio, sono gli elettroni, mentre quelli verdi, rossi e blu sono i vari tipi di quark. I cerchi, invece, rappresentano le particelle che trasmettono le quattro forze della natura, gravità, elettromagnetismo e forze nucleari deboli e forti. Questa geometria, a forma di stella, mette in evidenza un fenomeno nuovo e ancora da verificare sperimentalmente, un fenomeno che finora nessuna teoria aveva saputo descrivere. Le relazioni tra la forza di gravità, responsabile del peso, le forze elettromagnetiche e la forza nucleare debole, responsabile della radioattività. Ruotando ancora il cristallo si può fare in modo che gli elettroni, rappresentati dai triangoli gialli, vadano verso il centro, mentre i vari tipi di quark convergono verso altri punti a lato. Si forma così una struttura esagonale che mette in evidenza la forza nucleare forte, quella responsabile dell'energia e delle esplosioni atomiche. Tutte e quattro le forze della natura e tutte le particelle elementari sono rappresentate in questa struttura geometrica. Continuando la rotazione si torna al punto di partenza.